Oh minchia siamo entrati in diretta, siamo in diretta, fammi vedere Ok siamo entrati in diretta Chi si è iscritto? Iscriviti Ok mi dice che ti sei iscritto Alex09 si è iscritto Dai cazzo Non mi si applica bene lo schermo Dai cazzo Beh basta ma Ehi Mi senti su fortnite? No Non avevo capito Vediamo se mi senti Ora mi senti? Mi senti? No No Mi senti? No Mi senti? Mi senti? Iscriviti? Ok mi dice ti sei iscritto Qualcuno ha mandato si inizia Ok bare c'è C'è cosa? Filippo ci sta guardando male Iniziamo Facciamo squadre va Tre squadre Che hanno aggiunto? Facciamo outlet coppie 20 Ha aggiunto una modalità Gauntlet Che è? Che è? E' di continuare la modalità Inizia a dimensione Ah che modalità Che è? La live si è attiva siamo in diretta come fai a non vederla ma basta vai come si chiama timmo mi senti su fortnite vediamo se mi senti vedi che vabbè ma logico qualsiasi live è in ritardo e iniziamo quindi mi devo fare leader ora mi senti? mi senti? no mi senti? eh ma tu intanto devi lasciare un commento aspetta eh si lo so me ne sono accorto ora senti? no l'ho diseggiata fammi vedere il volume sennò sento il mio ego ok 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 fin semplici Ti ho messo modellatore Simare Basta giochiamo cazzo Non chiede di aspettare ma andiamo un po' lenta lo giovane, meglio si va un po' indietro. Come fa a non vedersi le live bastards? Non ci credo. Non c'è più. Mi sono un cazzo. Fatto un attimo. Pronto Jonas? Si? No sono in live e devo farmi pure i compiti. devo fare l'analisi logica mi chiamano l'attimo il mio vicino mi dici che sono in diretta non è non è non è non è non è non è per me lo dice perché ora è il prezzo ma non ho fatto te modellizzate l'ho fatto guarda, mi partirà live no, no, mi partirà ma sto privato c'è la Slam Rancher ma come si chiama per la Slam Rancher? ma come si chiama per la Slam Rancher? ma come si chiama per la Slam Rancher? installo il giro, ma quello in modo che mi lagga di meno ma dai, non puoi no, forse mi sta laggando un fottio che vuole dire? mi pare che si chiama per la partita che si è visto non lo facciamo più live ma non lo sai promovere non lo so che è bra non lo so non lo so ora, non lo so Non lo so, da chi parte è proprio il rilascio. Bene, era meglio se registrevamo direttamente una puntata. No, ormai siamo in live, infatti. Bene, quattro like abbiamo, già abbiamo quattro like. No, quattro mi segna. Non cancellare nessun commento. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Ma a me è poco laggato ora. Eh, non vedo l'immagine. Mi si è bloccata l'immagine del gioco. Ci sto seguendo giusto? Mi si è bloccata. Mi si è bloccata l'immagine del gioco. Mi si è bloccata. Mi si è bloccata l'immagine del gioco. Mi si è bloccata l'immagine del gioco.